Allora, ho iniziato quando ero un bambino, piccolissimo, avevo 13 anni e praticamente fingevo di trasmettere in radio dalla mia cameretta di casa. I miei genitori ovviamente pensavano fossi un pazzo e invece non lo ero, del tutto insomma. Ho continuato, ho iniziato in queste piccole radio locali per poi arrivare a quelle regionali fino ad arrivare a una delle radio più importanti d'Italia, se non la più importante, Radio 105. Faccio questo lavoro da 30 anni e ogni giorno, nonostante ormai sia passato veramente tantissimo tempo, io mi chiudo qua dentro e scrivo, creo, monto, realizzo dei piccoli capolavori. Ho scelto di vivere a Miami ma nonostante questo sono comunque sempre chiuso qua dentro, quindi non mi godo il mare, non mi godo i club, non mi godo le belle ragazze, ma non perché sono un pazzo, perché io amo quello che faccio. Cioè per me questo non è lavoro, questa è passione, io in realtà non ho mai lavorato un giorno in vita mia e quindi se voi volete imparare questo mestiere e non lavorare mai un giorno in vita vostra, sono qua per insegnarvelo, sono qui per farvi innamorare della radio. Ciao!